I miei fissati precedenti, Aragorn e Companions hanno cercato Pepino e Merry lungo e largo mentre loro si facevano portare a spasso dai barbalberi. In seguito, Gimili e Companions hanno trovato Cantelf alle spettrici e insieme a lui sono andati da un tizio del quale non ricordo il nome e l'hanno portato di nuovo nel regno dei buoni perché un cattivo ne gli aveva fatto un incantissimo e in seguito Aragorn è caduto. Beh, lo ritroveremo e scopritela nei nuovi episodi di LEGO! Siamo tornati! La nostra gente è segnata! Lord Aragorn, dove sei? Ciao! Oh, povero Gimili! È triste! Oh, eccolo! Ciao, Oregon! Oh, la stella di pane! E la sono tutti, sono bene! Eccoci a questo nuovo episodio in diretto a Lord of the Rings! Tutti i tuoi guardi sono in terza! Quali? 10.000 forti almeno! 10.000! È un'armi per una sola bocca... ...per distruttare il mondo dei uomini. ...per distruttare il mondo dei uomini. ...per distruttare i uomini. ...per distruttare i uomini. ...per distruttare le uomini per la battaglia per la nonna. ...per distruttare le donne e i figli in la cappa! Oh... non voglio non farla combattere, povera! In ragione, non voglio non farla combattere, povera! Mi ha battuto molte guerre, MasterFill. Io so come difendere la mia proposta. Tu devi chiederti per l'idea. E chi arriverà? Ti amano tutti, no? Oh, quanto sono carini! Quanti ne sono? Possiamo sconfiggerli! Yeee! Quindi adesso che si fa? Ok, Gimili! Rompi qua! Rompi! Costruisci Gimili! Ah no, ok, ti serve qua. Devi metterla qua. Fa vedere. No, probabilmente ci servirà qualche altro tipo ingranaggio, che ne so. Allora, cerchiamo ingranaggi simili. Vediamo un po'. Ok, qui ci vuole Gimili. Ok, contribuiamo a rompere le mura invece di costruirle. Che tipo stanno solo arrivando degli Urukai grossi e forti e possenti che vogliono farci un culo a strisce. Però, beh, non fa niente. Possiamo rompere le mura. Non è un grande problema. Eh, tanto devono arrivare solo degli Urukai. Eh, che devo fare? Ah! Vai! Legolas! Cioè, Legolas! Legolas! Ah, ecco gli ingranaggi. Costruiamo gli ingranaggi. Adesso, vai Gimili! Posiziona la leva! Ok, vai Gimili! Sì! Puoi farcela! Eeeh! Vai, 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 vai! E ho l'impressione che quel muro si romperà breve. Vai, 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 vai. Ok. No, sapete com'è? È fatto il Lego quando tutto il resto non è fatto il Lego. Però va bene! Costruisci, costruisci, costruisci. Ha l'impalcatura qui. Ok. Ok. Soldi per me! Soldi per me! Soldi... Tanti soldi per me! Ok, sali, sali. Vai! Gimili power! Gimili power! Ci sono, identici però! titlezion fra Але— …ognate che stanno Daqui? O vi Volсли, io far Sketnet Espagne unaile puede PAWOBIS? Oh! ballano perchè ballate? scaglia io una bella freccia nel sedere grande non è proprio il sedere però va bene lo stesso ooooh sono tristi oh cacchia non li abbiamo fatti arrabbiare perchè hanno le manine sopra gli ilmi? esatto e attaccare? ok allora che dobbiamo fare? ah dobbiamo rompere le scale rompiamo le scale no come si fa a rompere le scale? dobbiamo rompere le scale come facciamo? forse serve regolas si infatti ecco abbiamo rotto una scala andiamo a trovare l'altra scala dov'è? ok qui ci sono delle scatole vai distruggi le scatole e distruggi anche questi tizi se ci riesci ah mi sa che queste cose qua non si rompono ok allora andiamo regolas ah ok qui ci vuole gi.. 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 ok vai dimmi le distruggi yeeeh io sono? ah ok allora dov'è? ah eccolo qua un altro boom yeeeh e abbiamo buttato giù tutte e tre le cose nooo un'altra scala e giustamente l'orco lo riesce a rompere tutto quanto io invece no vabbè muori 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 no adesso più scale rompiamo qua vai legolas distruggi e adesso ci serve ghimili 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 e qua perfetto abbiamo rotto anche qua e l'ultima mi sembra che la dovesse rompere regolas hey grandi salti all'indietro una grande fighiaccione eh tatatatatatata ah no che deve fare no gli dobbiamo spingere la cosa sopra quindi ci deve andare il nostro carinissimo vai dimmi spingi la cassa vai yeeeh c'è adesso che ah adesso dobbiamo costruire ah giustamente dobbiamo costruire il coso per poterla buttare giù giustamente ma non potevamo buttarla santo ciamata ciu ciu pam e addio anche questa scala oddio quante sono adesso wow oddio questi si che ne sono tanti ok rompiamo il giusto usa lega perché non è un nemico sulla scala eh ne ho buttato giù tre scale non serve che mi tu mi venga a dire come cavolo devo fare debba fare perché c'è ne ho buttate giù tipo cinquantamila ma va bene vabbè forse cinquantamila è un numero un po' esagerato però ne ho buttate giù tante e che cacchio yeeeh due in una volta no non c'è no lascia stare Gimili eh l'ho ucciso scusa Gimili vieni qua no prendi Gimili ok questa conta come mio ok vai no no ah si ah si ho capito ho capito a cosa si riferisse l'archivamento vieni qua vai Gimili eh mi hanno ucciso muori muori ok perfetto adesso ne manca solo un'altra vai Gimili e distruggila tu 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 waccia ah giusto waccia ah 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 e abbiamo distrutto anche questa scala belle amici moni amici moni amici moni non lo provocare porca miseria chi è questo tizio abbattilo no ho una testa oh una incudine ah 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 bam no la fiaccola no eh almeno se ne abbiamo ammazzati un po' con le mura no l'unno Mary Poppins leggo Mary Poppins yeeeh ah cioè continuamo a distruggere le mura giustamente via devo andarmene da qui e per farlo chiediamolo devo fare non lo so Forse devo costruire qual... Ah, ecco qua Cosa devo costruire? Ah, ricostruisco il muro dopo averlo rotto, va bene Allora, vuoi smettere di rompere scatole? Mannaggia la miseria Allora, corriamo Salta qui, salta qui Qui distruggendola magari esatto Ma non... Uh! Vai, Legolas! Vai, usa il salto dell'elfo magistrale Butta questa roba c'è giù, così possono salire anche gli altri E scappiamo via! Via, via, via Ok, mi serve, gimme Via, via, via Vai, gimme di attacca! Giù di pom! La vuoi finire? Di attaccarmi? Dio Allora, uh, che c'è qua dentro? Ah, non posso romperlo Vabbè, non fa niente Quindi, via, via, via Scappiamo tutti quanti? No, sono arrivando anche a rompere lì Difendete il cancello quando vediamo C'è un altro buco là Però non fa niente Ah No, un Oscar! Perché gli buttano dosso gli Oscar? Ok Alberi Devi lanciarmi Va bene Vai, gimme di! Distruggili! Vai! Beh, distruggiamo tutto Non, non, non Batterete questo muro oggi E nemmeno domani Mori Che devo fare? Ah, sì Devo riparare Il buco nel muro Grande! Abbiamo riparato anche il buco nel muro Oh, quindi adesso devo salire sopra E devo buttare Ah, ok, con Legolas No! Stanno arrivando altri cattivi Eh, vai Legolas Difendi il ponte Distruggi tutti quanti Vai, distruggi E se riesco a tirargli una frecciata Perché non gli attiro una bella frecciata? Boom! Perfetto Abbiamo abbattuto questi tizi E adesso dobbiamo spingere questa robaccia Oh, qui mancano i tasselli E adesso dove li dobbiamo trovare i tasselli? No! Un'altra scala E io butto giù anche questa Aspettate però Per uccidere questi brutti Ragazzuoli Bam! Ok, dove cavolo li trovi Così per aggiustare? Eh No! Oh! Uh! Ok, adesso penso che si farà la roba per riparare Distruggendo quei cosi Armabile No! Un'altra scala Che dobbiamo distruggere! Distruggiamo! Via 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 Ma tipo Gimili e Aragorn Cosa diavolo stanno facendo? Ok E abbiamo distrutto anche questa robaccia Adesso possiamo riparare Per potergli buttare una bomba addosso Non so che diavolo sia quella cosa E Più velocemente magari Grazie, grazie, grazie Anche io ti voglio bere nel golo Su Vai E Boom! Ok, quindi adesso devo passare Con Legolas Ah, il rinforzo qui Per fare il rinforzo Ok, ho capito Spostiamo questa roba Ah no È per salire Non potevi salire da dove? Vabbè Non fa niente No! Cioè prima ci hanno messo tre ore Poi che l'ho rinforzato Boom! Va bene Ok Un pianoforte Un pianoforte Anche un maiale Un pianoforte È finito Cosa possono fare Contrano così Reckless Hayden? Per me Per Rohan sì let's be the hour when we draw swords together oh give me oh give me oh oh yeah yeah distruggiamoli tutti questi pezzenti crepate tutti quanti ma ammazzo tutti quanti che credevate di sopravvivere ma nemmeno per idea ah lì potevo tipo saltare per prendere quel coso però non fa niente tanto comunque devo rigiocarlo crepate tutti quanti brutti cattivori oh sono un venturiero autentico ciao gallem che non voglio far arrabbiare sinceramente perché sarebbe una oh sono morto come ho fatto a morire vabbè sono tornato non fa niente crepate tutti quanti mi distruggo tutto ah muori 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 non è solo siiii andiamo ad aiutarlo yeah andiamo a sconfiggere questi tizi anche se siamo tipo quattro persone vabbè siamo una vabbè non sono solo quattro cosa pensate di fare con quella alla base noi abbiamo i cavalli è la luce divina perché abbiamo Dante cioè abbiamo Beatrice con noi vedete Beatrice anche se adesso è un uomo abbiamo la luce divina allora vittoria abbiamo vinto yeee ahahah yeee ahahah giustamente ho sconfitto anche questo tizi ok no sta accadendo attenzione Sam ahahah ok ah quindi non lo comando Gollum ok tu 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 ok come vuoi tu Gollum ok non voglio essere questa stupito frodo fatti prendere pugni cavolo ci mette assai a morire dio da quando eh eh non ricordo il nome eh stiamo arrivando ah quando Bilbo gli ha dato l'armatura di Mitril ci mette un anno a morire cavolo ok la cosa di fuoco ci serve un secchiello che probabilmente troveremo scavando qui sotto esattamente secchiello mettiamolo qui prendiamo secchio e spegniamo queste fiamme blu un secondo Gollum porca miseria Gollum eh sì un secondo arrivo andiamo oh eccomi Gollum e ovviamente non mi dire che devo tornare dietro per prendere il coso ah no magari piantiamo questo secchio qua e esce l'acqua no mannaggia pensavo una pianta di fiamme di acqua però non ci non ci sono le piante di acqua non fa niente oh ma quelle sono quali sono dei gufi oh l'acqua ah ok perfetto zitto Gollum stai superando Frodo ed è davvero raro superare Frodo cioè è difficile superare Frodo ma davvero difficile eh quindi andiamo ok perfetto andiamo 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 addio stai zitto porca miseria e ovviamente acqua per noi acqua per tutti ah no ok via vai solto 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 di più solto di più solto di più attenzione butta l'acqua su dell'acqua però va bene butta l'acqua sull'acqua ok vabbè vabbè che stai facendo oh un orsacchiotto no povero orsacchiotto chi è che gli da calci oh bravo oh sto dormendo oh con i draghi davvero di nuovo mi nascondo da solo grazie si mi nascondo da solo ok frodo nasconditi nell'acqua ah no crepi nell'acqua dannazione non lo sapevo dove ti puoi nascondere frodo dove cacciosina dovrebbe nascondere frodo ah frodo può indossare il suo mantello elfico per nasconditi giusto 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 vai un secondo yeeeh adesso sono una pianta yeeeh non mi dire che continuo con i suoi hai muovi te hobbys no e dai basta ti prego ti prego fai una cosa buona ogni tanto vai nasconditi se io sono secchiello ma anche se non sono un secchiello però sono un secchiello ecco fatto abbiamo scappato anche questa volta e adesso continuiamo yeeeh ah inutile switchare a Sam perché tanto tra poco dovrò tornare di nuovo a questo inutile frodo quindi ok vai no stupido idiota tu hai l'elmet cioè il mantello qua no mamma mia sono un cespuglio magnifico cespuglio inutile eh già inutile cespuglio perfetto è talmente inutile che esplode cioè vabbè sono un cespuglio inutile che esplode ogni tanto sapete com'è la mia inutilità si fa sentire e mi porta all'esplosione eh già eh già ah vabbè salta 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 via da quest'acqua e ponte fu yeeeh uno scudo lì sotto ok scudi a random scudi random scudi random seppelliamo questa cosa qua tu bu puff fiori magnifici in questa palude del cavolo corriamo uh ok tutto quello che vuoi uh eccoci al nero cancello ma non era una pizza wow oh si infatti ahahahah 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 oh pizza anch'io vorrei una pizza non era più buio qua c'è pieno di luce mmm chi sono ah è un olifante un olifante uh ciao cosi dio quanto sono grossi uh cioè frecce che li prendono a pugni invece di trapassarli da parte a parte ma proprio va bene uh sono tizio misterioso numero uno ma c'ha ok dobbiamo sconfiggere gli elefanti come sconfiggiamo ieri ah ok devo salire sulla corda oh sono salito su questa cavolo di corda buongiorno buongiorno amici oh che c'è è stato crepando no ma non è un gran problema si direi che non è un grande problema prendiamo la corda e non è che dobbiamo uccidere pure questo tizio qui sopra no ok usiamo la corda ok esatto per salire e dannazione e dondoliamo dondoliamo ah no dobbiamo salire ok ah sconfiggi il tizio appugni sul naso sul naso sul naso ci salta la testa quando lo prende appugni ok sconfiggendo il tizio sopra l'elefante muore ah ok no no però se ne va va bene e quindi sali qua sopra ok mi sa che ci vuole il tizio con la spada oh finalmente porca miseria ci vogliono le ore per prendere per salire su questi cavolo di elefanti oh prendiamo appugni anche te nel naso quello nasone enorme che ti ritrovi perfetto e abbiamo sconfitto anche un altro gigante cioè che non è un gigante è un elefante però è grosso quindi va bene lo stesso yeee addio quanto sono grossi non pensi che ci sia troppo lungo ok quindi andiamocene ok quindi andiamocene chi sei? siamo hobbiti della Shire esatto siamo fuori da Rivendell con sette compagni uno che abbiamo perduto in Moria due erano figli un dwarf e anche un alp e due uomo erano figli e Boromir e Boromir sei un amico di Boromir? si sì e poi ti accorre per sapere che è morto e dove è mio fratello? oh due harfling e un paese di uomo nella mia famiglia il regno di potenza dentro il mio capo ha bisogno di distruggere questo è lì andiamo verso Mordor esatto Foskyat è sotto attacco e chiamiamo per rinforzamenti il regno va a Gondor ma abbiamo sconfitto anche quest'altro livello anche se l'abbiamo più completato sconfitto dove stai stai leggendo Sam? e anche quelli di te di frato scopritone il prossimo episodio di il lego il signore degli anelli il viaggio e il potente che a il 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 il